Salve a tutti amici di Guerz86, innanzitutto io mi presento, sono Lorenzo probabilmente mi avete visto comparire già in qualche altro video di Guerz sono stato a Barcellona insieme a lui al Mobile World Congress lo scorso anno perché sono qui? Perché faccio parte del progetto pianetasmart.it progetto nato insieme ad Andrea e a Guerz di conseguenza vedrete comparire ogni tanto qualche mia video recensione qualche mio video dedicato al mondo della tecnologia oggi vi voglio proporre la video recensione degli auricolari bluetooth di Lumsing auricolari che vedete già appesi qua al mio collo niente, io direi di far partire la sigla e partire con la video recensione ben tornati in nostra compagnia come vi ho detto prima della sigla oggi vi propongo la recensione degli auricolari bluetooth di Lumsing come li potete vedere qui gli auricolari sono sono dedicati agli sportivi hanno questo questo supporto per l'orecchio in silicone auricolari in ear con gommini anche loro in silicone le caratteristiche hanno una batteria con la durata dichiarata di circa sette ore io attualmente l'ho usati per sei ore più o meno e non si sono ancora scaricati quindi posso dire che effettivamente durano circa sette ore bluetooth 4.1 l'unica pecca a mio avviso che io sono un po malato del di questa tecnologia manca l' nfc per collegarli col col nostro smartphone ma è una piccolezza che magari in futuro Lumsing potrebbe mettere andiamo a vedere la confezione di vendita la confezione di vendita è questa qui molto molto minimale al suo interno troviamo un cavetto corto piatto micro usb usb per la ricarica del dispositivo tre coppie di gommini di diverse misure e tre coppie di supporti anche loro di diverse misure tutti in silicone e un manualettino delle istruzioni sembra piccolo ma contiene tutte le informazioni che che servono per utilizzare questo questi auricolari andiamo a vedere un po nel dettaglio come sono fatti questi auricolari innanzitutto dico che sono leggerissimi pesano solo 16 grammi ma la qualità c'è c'è tutta nonostante siano di plastica devo dire che sono costruiti molto bene non abbiamo scricchioli non abbiamo nessun tipo di difetto allora nella parte questo l'auricolare destro troviamo questo questo qua che è un pulsantone che serve per permettere per mettere in pausa la canzone per far partire la canzone rispondere o rifiutare una chiamata per accendere e spegnere il dispositivo sotto la scritta Lumsing c'è un led blu e un led rosso entrambi hanno una funzione che sono descritte nella nel manuale delle istruzioni sul su questo lato vediamo se mette a fuoco c'è pulsante del volume su che viene diciamo a due pallini per per riconoscerlo al tatto intanto che fate attività fisica e pulsante del volume giù con un solo pallino sotto al tasto volume c'è il foro per il microfono nel l'auricolare destro e sinistro troviamo l'ingresso per la micro usb per ovviamente per la ricarica e dentro tutto l'auricolare c'è la batteria quindi batteria nell'auricolare sinistro e tutti i comandi necessari nell'auricolare destro la qualità la qualità del suono io devo dire che è veramente ottima io lo sto usando con col mio z5 compact e devo dire che sono rimasto positivamente stupito non mi aspettavo molto da auricolare dal prezzo di 20 euro però devo dire che sono veramente ottimi il suono è bello pieno corposo ma pulito nonostante magari si va ad ascoltare la musica al massimo del volume non vanno il suono non va a distorcere i bassi sono belli pieni ma sono limpidi non vanno a sovrastare gli alti e i medi quindi cosa si vuole di più da auricolari da 20 euro io direi niente se li consiglio io devo dire di sì se eventualmente in futuro mi si dovessero rompere io assolutamente li ricomprerei perché comunque la qualità c'è tutta a un prezzo decisamente ridicolo 20 euro secondo me non si può chiedere di più detto questo io più che consigliarvi l'acquisto perché sono veramente di ottima qualità non ho nient'altro da dire io vi lascio il link in descrizione se eventualmente volete volete vedere la nostra recensione scritta qualche foto più nel dettaglio farò qualche foto più da vicino e vi lascio anche il link in descrizione se eventualmente lo vorreste acquistare su su amazon io con questo direi che ho finito un saluto da lorenzo e ovviamente cliccate mi piace al video